A tutto c'è un inizio e una fine. Io penso che dare le dimissioni come l'ho dato io, pensando di dare un contributo a quello che è il proseguo della Trentino Volley, meriti più vigore, meriti nuove risorse, nuove forze. Si conclude così una delle presidenze più longeve e vincenti dello sport italiano. Diego Mosna fino a ottobre lascerà il timone di Trentino Volley dopo 21 anni di successi. Cinque mondiali per club, quattro scudetti, tre Champions League, una Coppa CEV, tre Coppa Italia e qualche dispiacere inaspettato. Il primo scudetto, la prima Champions, il primo mondiale per club, queste sono vittorie che non si dimenticano, come non si dimenticano le sconfitte, soprattutto l'ultima che è stata veramente coccente. Una società modello che ha lanciato giovani come Micheletto oggi, Giannelli ieri e Guantorena prima ancora. I guantore più belli sono stati gli scudetti dei settori giovanili perché hanno e sono stati parte di un percorso di crescita di giovani e di atleti che oggi costituiscono la neblatura della nostra nazionale. E ora le voci si rincorrono su un coinvolgimento nel calcio trentino, Mosna però è categorico. Non hanno bisogno di me, io penso di farmi da parte, di occuparmi di altre cose, di collaborare e rimanere il primo tifoso di Trentino Volley.